Allora, per favore, silenzio, non parecchi eh, per due fortunati tra di voi il viaggio per le olimpiadi comincerà adesso. E ora voglio presentarvi il signor Irving Blitzer, che sarà il nostro allenatore di Bob. Senka, vai col film. Partiti, signor coach. Signori, fare Bob è una cosa molto semplice. Sì, anche andare al gesso. Grazie, siete molto gentili. Fondamentalmente quello che si deve cercare di fare è arrivare senza rimetterci le penne in fondo a una pista a ghiacciare, zigzagando, zigzagando. E come essere sulle montagne russe piu ripide e piu gelate del mondo. Quanto ghiacci !